Ciao, in questo video ti do uno script di vendita semplice che tutti possono usare per fare delle vendite oggi. Allora, questo è un video fondamentale che ti consiglio di vedere più volte, di applicare e di condividere con le persone del tuo team, con le persone che ti stanno a cuore. Allora, devi dire e devi informare le persone che conosci su quello che fai, su quello che è il tuo business. Allora, questo è valido per qualsiasi professione, sia che sei un avvocato, sia che sei un agente immobiliare, sia che sei un commercialista, un personal trainer, un networker, un massaggiatore. Qualsiasi professione devi dire alle persone quello che fai, vuoi informarle, vuoi che le persone sappiano quello che fai. So che magari già puoi avere delle obiezioni interne, magari non sono interessate, ok? Non è assolutamente un problema, se non sono interessate e non devi farti problemi di questo tipo, devi comunque dirlo. E devi trovare, e io te ne darò uno, un modo semplice per dirlo. Magari hai paura, ed è fantastico, è perfetto, è normale, perché puoi avere tutte convinzioni sbagliate su quella che è la tua comunicazione, sul tuo rapporto col denaro, non importa, la paura va affrontata. Ed è fondamentale, perché solitamente il nostro cervello va a creare delle conclusioni sbagliate. Magari non sono, ok? Non sono interessati. Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che sono interessati, ok? O che magari conoscono qualcuno che è interessato. Ovviamente non devi forzarli, non devi stalkerizzarli, perché nel nostro settore in passato, abbiamo questa paura, perché nel nostro settore in passato hanno insegnato a stalkerizzare le persone. Tant'è che qualcuno ha avuto un'esperienza negativa e un networker gli ha rotto talmente le palle che l'ha traumatizzato. No, noi non dobbiamo assolutamente fare così, ok? Non dobbiamo convincerli, non dobbiamo stalkerizzarli, ma dobbiamo informarli con una frase del tipo Ciao, magari non lo sai, forse non lo sai, ma io aiuto le persone a guadagnare con i social media, a perdere peso, avere una pelle, dei capelli più belli, a sentirsi meglio, a questo. Aiuto le persone a trovare casa, aiuto le persone a ritrovare la loro forma fisica. Qualsiasi cosa che il tuo prodotto o servizio o opportunità fa, non quello che è, quello che fa, quello che è il beneficio che può fare. Non devi dirgli il nome dell'azienda, non devi dirgli i dettagli del prodotto, ma quello che fa. Ok, ripeti con me, ciao, forse non lo sai, io, ma io aiuto le persone a, puntini puntini, forse conosci qualcuno a cui potrebbe interessare, forse conosci qualcuno a cui potrebbe servire questo, ok? Dopo questo video voglio che vai da dieci persone e le informi su quello che fai. Ciao, magari non lo sai, ma io aiuto le persone a... Forse conosci qualcuno o magari potresti conoscere qualcuno che potrebbe essere interessato, ok? Dentro di loro pensano o te lo dicono a me, potrebbe interessare a me quello che fai, oppure conosco qualcuno a cui potrebbe interessare e magari te lo dicono. Allora, devi iniziare a fare azioni, perché se hai obiettivi e sogni, devi iniziare, ragazzo mio, a fare delle azioni che sono coerenti, in linea, con quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Se non li fai, i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, non li raggiungerai mai. E ci fa anche la rima, ok? Questa è la cosa più importante che puoi iniziare a fare per il tuo business. Quindi a fare più azioni e a farle in modo più convinto, in modo più deciso. Quindi, ripeto ancora una volta. Ehi, ciao, nome, magari non lo sai, ma io aiuto le persone a... Forse conosci qualcuno a cui potrebbe interessare? Fallo adesso, dopo che hai... Adesso hai visto questo video? Vai da 10 persone e vallo a fare. Ciao, magari non lo sai, ma io aiuto le persone che vogliono brandizzarsi online, che vogliono fare contatti online, che vogliono creare la propria rete di network marketing, vogliono sponsorizzare, vogliono svilupparsi in questo settore, crearsi un guadagno online a 360 gradi, magari conosci qualcuno che potrebbe essere interessato ad aumentare i propri guadagni online. Se lo conosci, digli di rivolgersi a me, ok? Quindi questa è la mia... Ti ho informato, anche io, su quello che faccio. Fai vedere, guarda questo video, mettono in pratica, vai da 10 persone e farlo vedere alle persone del tuo team potrebbero sorprenderti, ok? Ciao e grazie di aver visto questo video.